ragazzi che cos'è che ho in mano e dove sono? sono nelle ancient cities e c'ho un cavolo di secchio in mano perchè oggi devo sopravvivere qua dentro per un po' di minuti con il secchio d'acqua in mano e non posso prendere nient'altro raga mi ha dato il cicità perchè mi sa che sta arrivando il coso, il brutto tizio allora ricordiamoci che qua è super pericoloso porca miseria e io ho solo un secchio di acqua che non mi può difendere letteralmente come caspita faccio raga vi immaginate tutto quanto bello infatti non prenderò niente ho detto che non posso prendere niente raga mi dispiace comunque guardate qua che è provata provatissimo bravo dunis quando ho realizzato che la mia morte sarebbe stata vicina e proprio lo sto sentendo io lo sto percependo raga aiuto allontaniamoci piano piano adesso raga ci può sentire la minima cosa lui ha le orecchie dappertutto qua e non sto scherzando ce l'ha dappertutto io pensavo che in questa fase potrei prendere qualcosa in mano effettivamente perchè se no raga non aveva letteralmente nessun tipo di protezione e non ha senso così cioè nel senso letteralmente se lui potrebbe ucciderci palesemente e però non ha senso capito quindi adesso io aia pian piano per carità un altro warden un altro warden raga sono morto sono morto ho finito di vivere qua in questa raga come come fa un essere come me a vivere qua dentro scusatemi basta comunicare con i warden razza di pure qua bene bene no si si ma voi continuate tanto qua non è che io sto morendo raga 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 oh no ha comunicato col warden c'è un warden qua vicino mi sta annusando il warden mi sta mi hanno usato e mi sa che lui può utilizzare quegli ultrasuoni potentissimi che ogni warden ha a sua disposizione ed indi per cui io suppongo di essere ormai finito raga sono credo di essere finito credo di non aver più nessuna speranza io qua me la sto cercando di giocare bene anche se diventa veramente complicato dopo una certa eh no ma lui può usare gli ultrasu per suoni e qua ha usato i suoi super suoni qua eh eh no eh raga mi spiace ci ho provato qua è finita mi sa che è finito mi sa che è finito no mannaggia che pizza vabbè dai era abbastanza ovvio che sarebbe successo raga ci ho provato è chiaro che non si può vincere nelle sensitis con caspita di secchio d'acqua però se ce l'avessi fatta a sopravvivere cavolo sarei stato fortissimo ovviamente per vedere altre di queste sfide iscrivetevi ora al canale così potete vedere anche i prossimi video che ci saranno lasciate like ricordatevi tantissimi in questo momento e ci vediamo al prossimo video ciao